Qui del stadio di ebbrezza, minaccia, resistenza pubblico ufficiale. Queste le accuse mosse dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro a un 35enne di Villetta Barrea, arrestato ieri per essersi rifiutato di sottoporsi alle accertamenti del caso. Le generalità del giovane non sono state ancora diffuse. Nel corso del pomeriggio di ieri si è preso comunque che i carabinieri della stazione di Villetta Barrea, coadiuvati da quelli della confinante stazione di Pescasseroli e della liquoda radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castel di Sangro, nel corso di mirati servizi di controllo della circolazione stradale, hanno arrestato un 35enne della zona perché responsabile di rifiuto di sottoporsi alle accertamenti per la guida sotto l'influenza dell'alcol di minaccia resistenza pubblico ufficiale. Il giovane automobilista nel corso del controllo avrebbe manifestato sin da subito evidenti sintomi derivanti dall'assunzione di alcol, tanto da barcollare e non riuscire a rimanere fermo. All'invilo dei militari operanti a sottoporsi i previsti accertamenti, da prima li minacciava, successivamente interprendeva una fuga a piedi dileguandosi nelle campagne circostanti. Le immediate ricerche consentivano di rintracciarlo nel vicino comune di Opi. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria e del tribunale di Sulmona, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.